E' stato presentato in Sala Giunta il primo rapporto alla città redatto dal Comitato di Inchiesta per il Contrasto e la Prevenzione dei Fenomeni di Illegalità a Napoli. Si intitola Le Voci di Dentro ed è frutto di dialoghi e incontri con i rappresentanti istituzionali e gli esponenti della società civile che operano sul territorio cittadino. E' un rapporto di conoscenza, di inchiesta in senso non investigativo, di registrazione di umori, di sentimenti, di sofferenze, di sogni. E' un lavoro che serve all'amministrazione, serve alla città, fatto da professionisti sensibili, competenti e intelligenti. E soprattutto voglio sottolineare la volontà politica dell'amministrazione di volere tutto questo e quanto noi stiamo su tutti i territori, soprattutto su quelli in cui c'è tanta fragilità. Ed è per questo che tra le varie notizie concrete e positive degli ultimi tempi registriamo l'avviso ieri per l'assegnazione degli ultimi abbinamenti degli alloggi popolari. Fatto quello, scadenza 11 gennaio, un minuto dopo parte il countdown per l'abbattimento della prima pila. Quindi un grandissimo risultato a questo punto, direi, non più a rischio. L'ultimo adempimento che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Presieduto da Sandro Ruotolo, il comitato è stato nominato con decreto del sindaco Luigi De Magistris e si compone di una squadra di volontari che tra il 2017 e il 2018 si è impegnata ad esaminare quelle realtà dove sono più diffusi i fenomeni di illegalità. In particolare il primo rapporto mette a confronto i quartieri di Scampia e Rione Traiano con l'obiettivo di individuare strategie di contrasto e prevenzione. Come primo lavoro abbiamo messo a confronto due quartieri di Napoli. Scampia, la periferia, quella nota, quella che in modo errato si considera ancora oggi la Napoli della Gomorra. Scampia rispetto a 15 anni fa e è completamente cambiata. Questo non vuol dire che si siano risolti i problemi. insieme a Rione Traiano. Il primo stereotipo che abbiamo abolito, cancellato, è quello del vettimismo meridionale napoletano. Napoli non è Napoli senza Scampia, senza Rione Traiano. Noi da questo punto di vista dobbiamo fare uno sforzo. Oggi non è che abbiamo risolto i problemi, ma incomincia a esserci un rapporto di fiducia. Questa è una battaglia che si vince se interagiscono istituzioni da una parte e società civile dall'altra.